che dite? ma io mi piaccio abbastanza, siamo pronti, stiamo per andare, è quasi tutto pronto il mio outfit c'è, ce l'abbiamo fatto, sono rosa confetto di sutta a tra poco terrazza dello chef, vinci una canzone, i concorrenti sono preoccupatissimi, emozionatissimi e io che ho emozionato i liti, a tra poco vinci una canzone, terrazza dello chef, san pietro clarenza ancora siete in tempo, vi notate su tutti i miei reciprosti, chissà 5 posti ah cosa è importantissima, alle 20 e 30 circa aprirò qui una live su tiktok dal nostro profilo dove inquadrerò il palco, saliranno in live i nostri giudici e il dj così avrete varie prospettive per guardare, mi raccomando non perdetevi né questa puntata né quella di giorno 1 di venerdì prossimo perché nella tezza entrerete in gioco voi giorno 9, quindi mi raccomando vi aspettiamo qua in live se siete lontani e non potete assistere dal vivo, a dopo